Tre anni e mezzo che lo aspettiamo questa giornata. Ci sentiamo, anche se non è giudicato, una forma di vittoria. In Pullman da Udine, in treno da Venezia, a destinazione, Vicenza, in tribunale, per essere oggi alla prima udienza del processo Zoning. Ma lei vuole entrare in aula? Non voglio entrare in aula. Perché? Perché va bene essere qui fuori, essere qui in tanti. È importante essere presente in aula oggi? Senz'altro. Perché? Perché? Perché per una regione etnica, per tutto. Un processo storico, lo dicono le cifre, tanto del crack della Banca Popolare di Vicenza, 6 miliardi di risparmi bruciati, quanto dei danneggiati, 120 mila. Oggi a chiedere giustizia, però, la cifra è monstra di 6 mila vittime che si sono costituite parti civili. È interessante perché è un maxiprocesso, diciamo, in qualche modo, se non altro per la presenza delle parti civili così numerose, Purtroppo questo è un processo che dovrebbe essere un processo normale, ma vedo che tutti vogliono far diventare un processo diverso. Responsabili del crack sostiene la procura, l'ex presidente Gianni Zoni infinito, assieme ad altri 5, sul banco degli imputati. Oggi sono assenti in aula e quando verranno bisognerà trasferire tutti nell'aula bunker di mestre. Organizzazione prussiana, gestione perfetta, nessun problema di ordine pubblico. Alle 11.30 entra il collegio presidente Lorenzo Miazzi. In pochi seguiranno da dentro l'udienza, a segnalare però la rabbia mai sopita e le speranze. I cartelli, gli appelli rimasti fuori, tanto alla magistratura quanto alla politica. Per ora non hanno visto ancora il becco di un quattrino? Assolutamente, assolutamente. Vediamo questi numeri nella legge di bilancio. Questo è il primo bilancio che noi ci appropinquiamo ad approvare e sarà approvato, come sappiamo, entro l'anno. Sono 4 anni che abbiamo veramente l'amarezza addosso, però io ho fiducia nella magistratura.